Ciao e benvenuto nel mio laboratorio. Inauguro con questo primo video una serie di altri video dove voglio, o meglio vorrei, dimostrarti come rendere fruibile, facile l'utilizzo di uno dei più famosi software da modellazione dentale, ExoCal. Non sono un espertone, un fenomeno, un guru, un relatore, ma sono uno che utilizza i software tutti i giorni. Quindi nel bene e nel male tutti i lavori escono da lì. Ad oggi il 100% della protesi fissa viaggia attraverso il flusso digitale nel mio laboratorio. Qualcosa per intero, qualcosa solo in parte. Certo tu potrai dire vabbè, fai delle schifezze. Non lo so. Il mio obiettivo non è dimostrarti che sono bravo, ma voglio mostrarti come utilizzo questo software. E chissà, magari capisci quel piccolo pezzetto che ti serve per completare il tuo puzzle. Non pretendo di sapere più di te, ma sono sicuro che conosco qualcosa che tu non sai. O non sai in questo momento. O che magari ti sfugge. Oppure io faccio in una maniera furba a cui tu non hai pensato. Idem, tu avrai qualcosa che a me manca completamente o in parte, o che tu fai in maniera più furba, con passaggi più semplici a cui io non ho pensato. Beh, questa pagina nasce con l'idea di mettere insieme tutti questi pezzetti con l'obiettivo di crescere tutti insieme. Se ti piace questa idea scrivimi, credimi cosa ti piacerebbe approfondire e lo faremo con un video alla settimana di due minuti. Facile. La prossima settimana vediamo come realizzo un ponte Maryland con alette laterali o monolaterali. Non entro in merito nella scelta dei materiali, ma in un unico progetto facciamo la struttura primaria e la controparte estetica da assemblare in un secondo momento. Ciao!